Vorrei volutarvi dicendovi una cosa, oggi avrebbe compiuto 70 anni un grande uomo di Stato, un grande giurista, un grande avvocato, magistrato, presidente dell'antitrust, e sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Oggi avrebbe compiuto 70 anni Antonio Craticralà, una persona eccellente, un uomo a cui sono stato anch'io molto legato personalmente da un'amicizia, un punto di riferimento per un'intera generazione di studenti, di professionisti. Oggi pomeriggio alla LUIS per ricordarlo, ci sarà un evento voluto da Andrea Zoppini, ci saranno molte persone a ricordarlo, da Paola Severini, a Gianni Letta, a Pietro Rescigno. Quello che voglio dirvi io è che in un momento difficile come questo, la lucidità, la lungimiranza e anche l'onestà intellettuale, una persona come Antonio continua a mancarci moltissimo e sempre di più. Grazie a tutti voi, a domattina. Grazie.